Ci siamo difesi bene, è mancato quel tocco in più davanti che ci poteva far vincere la partita, però comunque abbiamo dimostrato che nonostante che il Pescara deve puntare al terzo posto, noi invece alla salvezza ce la possiamo giocare anche noi con queste squadre più attrezzate di noi. In questo momento mi sento più in fiducia, anche fisicamente sto bene e cerco di lottare in campo fino al primo minuto fino a che ho le forze. Domenica ci sarà una partita importante per noi, l'Olbe ha i nostri stessi punti e quindi per riuscire a raggiungermi il nostro obiettivo dobbiamo assolutamente andare là e fare una partita di livello e portare a casa dei punti. Sinceramente non lo so perché anche io ho sempre sentito dire 40 punti, però a questo punto del campionato non penso ne bastino solo 40. Quindi noi dobbiamo andare in campo e cercare di portare più punti a casa possibile e cercare di arrivare prima possibile alla salvezza matematica.